Nuovo ospedale della Sibaritide, stretta sull'impresa d'Agostino, che ha in concessione il presidio sanitario. La lentezza delle attività preoccupa e non poco se si pensa che sull'opera, per varie ragioni, vi è un accumulo di ben 13 anni di attesa. Occorre dunque dare un forte impulso ed una drastica accelerazione, considerato che al momento sono stati autorizzati solo i lavori di baraccamento del cantiere e il posizionamento delle gru. È necessario che entro il 30 settembre il nuovo concessionario trasmetta alla Regione tutti gli atti propedeutici alla consegna dei lavori. Se non c'è da parte delle concessionarie, io mi auguro che ci sia, in tutto modo di interloquire anch'io con i soggetti interessati, questo lavoro è in itinere, non si può procedere alla consegna dei lavori. Quindi il primo step è completare la trasmissione degli atti obbligatori, per esempio il piano della committenza da parte del concessionario alla Regione. La Regione ha la necessità di verificare la documentazione trasmessa per poter fare, per poter procedere alla consegna dei lavori. Out out alla società concessionaria e monito all'amministrazione comunale di Corigliano Rossano e alla deputazione parlamentare regionale, al fine di monitorare le attività e imporre la redazione di un cronoprogramma. E quindi c'è bisogno che il Comune assuma un'iniziativa di stimolo e che la Regione si faccia carico di queste questioni. Quindi da questo punto di vista io mi auguro che ci sia una fase che entra nel merito dell'attività produttiva e che si possa anche qui valutare ed assumere un cronoprogramma che acceleri le attività dell'opera. Matteo Lauria per l'AC News 24